Stava tagliando l'erba nello spazio verde tra la ciclabile di via Martiri delle Libertà e la roggia rosa, quando per cause ancora da chiarire è scivolato con il trattorino all'interno del corso d'acqua rimanendo intrappolato a testa in giù. Il tragico infortunio sul lavoro, la cui dinamica è ancora tutta da chiarire, si è verificato alle 12.30 a Costa Bissara a perdere la vita Antonio Fabris, 63 anni, dipendente del comune per cui stava proprio svolgendo fin dalla mattina i lavori di sfalcio del prato. Ad accoggersi del mezzo in acqua, a ruote e all'aria un passante che ha allertato immediatamente il comune. Sul posto è arrivato anche il vicecomandante della polizia locale Achille Costa che si è gettato nella roggia per capire se vi fosse qualcuno sotto al trattorino facendo così la tragica scoperta. Vani i tentativi di rianemare l'operaio sia da parte degli agenti che del personale del suo è arrivato sul posto assieme ai vigili del fuoco. Secondo le prime ricostruzioni il 63enne sarebbe scivolato con il rasa erba motore lungo una sponda della roggia forse a causa di una svista ma non si escude anche un malore improvviso. Appena presa la notizia sul luogo del dramma sono accorsi anche il sindaco forte, il vice sindaco Maria Cristina Franco per rincorare i familiari della vittima. Un dramma anche perché c'era un rapporto anche umano con Antonio Fabris, è stato assunto in una mia prima amministrazione a fine anni 80 e avevamo instaurato anche un rapporto umano di quello da amministratore dipendente quindi sto vivendo un dolore profondo. Sul posto ha operato anche lo Spisal dell'Ulssotto a cui spetterà capire assieme alla polizia locale cosa sia accaduto ed è anche possibile che il dramma sia avvenuto molto prima della scoperta visto che l'operaio era impegnato in quel lavoro dalle prime ore della giornata di oggi.